Con Ultranet, le Camere di Commercio vogliono promuovere i vantaggi della banda ultralarga per le imprese e tutta la collettività. La banda ultralarga è il progetto con cui il Governo, in linea con l'Agenda Europea 2020, punta a una connessione ultraveloce per tutti. La strategia adottata per colmare il ritardo del nostro Paese in termini di Digital Divide ha previsto un intervento capillare su tutto il territorio nazionale, che parte dalle cosiddette aree bianche, quelle a fallimento di mercato, arrivando a sviluppare servizi digitali avanzati anche nelle cosiddette aree grigie e nere, dove cioè sono già presenti operatori con reti da 30 a 100 megabit per secondo. Un'infrastruttura digitale avanzata in Italia è indispensabile per consentire alle imprese di procedere nella stessa direzione dei Paesi più sviluppati. Una connessione veloce, stabile e affidabile è fondamentale per fare ricerca industriale, favorire l'innovazione e ridurre le distanze tra imprese, pubblica amministrazione e cittadini. La banda ultralarga favorisce lo sviluppo dell'economia nell'era della Quarta Rivoluzione Industriale, portando benefici economici e di business per le imprese. In questo scenario di crescita, le Camere di Commercio fanno da cerniera alle attività del progetto, valorizzando i dati del registro delle imprese per consentire al Ministero dello Sviluppo Economico di realizzare infrastrutture digitali sui territori a supporto delle imprese. In ogni Camera di Commercio c'è già un esperto in banda ultralarga. È il pivot territoriale, a cui le imprese possono rivolgersi per avere informazioni sulla banda ultralarga, per essere aggiornate sulle tecnologie digitali compatibili con il piano impresa 4.0 e per approfondire le dinamiche connesse alla digitalizzazione delle imprese, della pubblica amministrazione e della società civile in genere. Il pivot orienta le imprese verso scelte più consapevoli che trova sul mercato. Le aiuta a scoprire, insomma, che il vantaggio della banda ultralarga è un'Italia ultramoderna. Il progetto Ultranet è coordinato da Union Camere e sviluppato dalle agenzie del sistema in stretta collaborazione con le strutture territoriali. Una rete vasta e consolidata con il compito di partecipare all'attività formativa, organizzare gli incontri di animazione locale, rappresentare un punto di riferimento qualificato sui temi della banda ultralarga, favorire l'interazione con altre organizzazioni che operano sui temi dell'innovazione digitale a livello locale e nazionale. Per diffondere la conoscenza delle potenzialità della banda ultralarga e del suo possibile impatto sull'economia e sulle imprese, sono stati individuati indicatori territoriali che offrono ad ogni comune una fotografia aggiornata del tessuto produttivo, del suo potenziale innovativo e della sua evoluzione nel tempo. In aggiunta agli indicatori territoriali, sono stati individuati anche due indicatori sintetici. Attraverso l'utilizzo di questo set informativo, i pivot territoriali delle Camere di Commercio mettono a disposizione delle imprese e delle amministrazioni uno strumento utile per cogliere le potenzialità e i vantaggi di una connessione stabile e veloce. Contatta la tua Camera di Commercio o scopri di più sul sito ultranet.camcom.it Contatta la tua Camera di Commercio